La Venere 88 Assisterete ad un fenomeno davvero straordinario! Signore e signori, ecco a voi la Venere 88! Svelta! Sicuramente è nella forma e nel forte sviluppo delle mascelle che si riscontra una somiglianza tra l'Ottentotta e l'Orango Tango. A terra! Stai buona! Dicono che siete una principessa, è vero? Avvicinatevi, signore e signori! Non sentitevi imbarazzati! Stai giocando col fuoco, amico! Per voi, signore e signori, la Venere 88!